Musica Europee in Italia seggi aperti domani dalle 15 alle 23 si vota anche domenica le ultime manifestazioni elettorali prima del silenzio che scatta a mezzanotte oggi il voto di Irlanda e Repubblica Ceca, ieri seggi gli elettori olandesi in Italia anche le regionali in Piemonte e l'amministrativa in oltre 3700 comuni di cui 20 cavologhi guerra in Ucraina, Biden paragona Putin a Hitler Mosca polimizza duramente con la Francia dopo l'annuncio dell'invio a Kiev dei cacci alla bombardimento Mirage Putin l'Occidente sta perdendo egemonia, lunedì Blinken torna in Israele domani scade l'ultimatum di Gans a Netanyahu il ministro annuncerà l'uscita dal governo israeliano il Qatar a Damas accetti l'accordo via da Doha Giallo di Kata per la procura la scomparsa è frutto di un piano ben organizzato a quasi un anno dal rapimento sono quattro le piste investigative traffico di droga, racket delle stanze all'hotel Astor scambio di persone e poi quella sessuale la madre della bambina Vivo sempre con la speranza che qualcuno parli Roland Garros impresa solamente sfiorata per il nuovo numero uno al mondo Sinner battuto in semifinale in 5-7 dallo spagnolo Alcaraz Vittoria nel doppio femminile per la coppia Paolini e Rani che raggiunge la finale al pari del doppio maschile Paolini impegnata anche nella finale singola Festa totale E non vorrei lasciarti più andare Aspettami E un'altra notte se ne va Un bacio al glittering Pepsi, nuovo look, stesso gusto unico Di famiglie strane Ce ne sono tante Ma di famiglia Griffin Ce n'è una sola Su Italia 2 Con la diciottesima E la diciannovesima stagione I Griffin Ogni lunedì in prima serata Ah è lei Le faccio la ricetta Tutto estremamente chiaro Benvenuto in Iliat Ti stavamo aspettando Iliat Un mondo semplice dove sai sempre cosa aspettarti Entrare per credere I mal di testa non sono tutti uguali Quando ti opprime puoi provare Moment 200 Quando è forte Moment Act in capsule molli Se hai mal di testa da cervicale Moment All Per il mal di testa da congestione nasale Puoi provare Moment Xin E per il mal di testa e i dolori da ciclo Moment nella confezione rosa Moment spegne i mal di testa Sono medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi Leggere attentamente il foglio illustrativo Da Angelini Pharma Grazie a tutti Nuovo Clea Ancora più potente Formula con azione profonda sulla cute Fino al 100% di protezione dalla forfora Clea La marca di shampoo maschile numero 1 al mondo Partner ufficiale UEFA Euro 2024 Trova l'offerta giusta per il tuo hotel ideale Vai su Trivago Scegli la destinazione E le date di arrivo e partenza E inizia a cercare Confronti i prezzi per lo stesso hotel E risparmia fino a 30 euro a notte Hotel Trivago Io guardo avanti Ho scelto Unipolsai Sono leader nell'assicurazione e nell'innovazione E con la Poiz Auto, chilometri e servizi Puoi pagare in 12 mesi E rinnovare con l'app Scegli il futuro Unipolsai Sempre un passo avanti E ora? 3 ore in lavatrice a 90 gradi Eh, sai che bolletta Eh Amapa No Con le nuove Dash Power Pods Pulite impeccabile anche a freddo E in cicli brevi Così si risparmia Macchia sparita Bolletta alleggerita È più che pulito È Power Pod Tenere fuori dalla portata dei bambini Cremoso yogurt Più biscottini al cioccolato Oh my yomo Yogurt alla fragola Più mandorle caramellate Cremoso yogurt Più croccanti buffer al cioccolato Oh my yomo È buono È yomo Fanzis Se non ti file nazionali Godi solo a metà Partecipa al concorso Prova a vincere la maglia ufficiale degli azzurri Non perdere Viola come il mare Io aiuto te Se tu aiuti me Che sere? A te ferrò Le due stagioni complete Sono disponibili ora Solo su Mediaset Infinity Per lei è un problema Se io lasco con Viola Quella che vi racconterò oggi È una storia diversa dalle altre Perché è la mia storia Quante donne possiamo essere? Quando un'infezione vaginale rischia di fermarci Possiamo provare Meclon Contro vaginosi batterica e candida Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro Meclon Dalla parte di noi donne È il momento perfetto per abbracciare il cambiamento Per imparare in modo innovativo e sostenibile Per raggiungere nuovi obiettivi È il momento perfetto per scegliere Pegaso L'università digitale più scelta in Italia Pegaso Connessi al futuro Su subito ho comprato da Carla la racchetta che cercavo E col pagamento protetto l'ho presa al volo Subito è la community che sa come farti felice Scarica l'app Se vuoi placare la tua insaziabile voglia di sushi Glovo O farti portare le cucchie dall'ufficio La spesa Qualcosa dalla parafarmacia O quello che vuoi Ordina un glovo e tutto ciò che desideri Suona la tua porta Fede? Pronta a chiudere gli scatoloni di un trasloco in tempi record? Pronta! Via! Vinci come me le sfide di ogni giorno Con Sustainium Plus E la sua formula specifica a base di vitamine E complesso di amminoacidi Sustainium Plus Dai energia alla tua energia E dopo i 50 anni Sustainium Plus a 50 più Con Actifull E menarini Pesto Barilla presenta La famiglia Limonetti Adorano godersi il sole Con un tocco di freschezza in più E amano il pesto Con un tocco di freschezza in più Pesto Barilla Basilico e limone Una cremosità unica Con una delicata nota di limone in più Il gusto dell'estate Amato da tutti La freschezza di Coccolino non ti basta mai Goditi un'esplosione di extra freschezza Con il nuovo Coccolino Profumo per Bucato Elixir Aggiungilo al tuo ammorbidente Per infondere i tuoi vestiti Con fino a 10 volte più profumo Per un extra profumo che dura a lungo Nuovo Coccolino Profumo per Bucato Elixir Molto più che fresche L'estate di Mediaset Extra Si accende di passione Le emozioni di vivere Cento vetrine E Beautiful Da lunedì 10 giugno Solo per te Ben trovati a questo appuntamento meteo Ci attende un fine settimana caratterizzato dalla presenza dell'alta pressione Che porterà un po' di caldo estivo in tutta Italia Anche se domenica si avvicinerà una perturbazione Che causerà un graduale peggioramento del tempo al nord Per maggiori dettagli consultate il nostro sito Meteo.it Ciao cucciola Sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 E domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 Si vota per rinnovare i 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia Affinché sia valido Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe Il nome e cognome o solo il cognome dei candidati prescelti compresi nella lista medesima L'elettore può esprimere fino a tre preferenze Nel caso in cui l'elettore esprima più preferenze Queste devono riguardare candidati di sesso diverso Pena all'annullamento della seconda e della terza preferenza Per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista Può essere espressa una sola preferenza Qualunque altro segno sulla scheda annulla il voto Per votare occorrono un documento di riconoscimento in corso di validità E la tessera elettorale Elezioni 2024 Votare un diritto e un dovere civico Di famiglie strane ce ne sono tante Ma di famiglia Griffin ce n'è una sola Su Italia 2 con la diciottesima e la diciannovesima stagione I Griffin ogni lunedì in prima serata Ok ho pochi secondi per convincerti a passare a uno Nivea Sanchiz La pelle per godersi il sole Nivea è per la pelle Nuovo Clea ancora più potente Formula con azione profonda sulla cute Fino al 100% di protezione dalla forfora Clea la marca di shampoo maschile numero uno al mondo Partner ufficiale UEFA Euro 2024 Viva l'Italia L'Italia che non ha paura L'Italia che lavora L'Italia che si dispera L'Italia che si innamora L'Italia metà dovere e metà fortuna Viva l'Italia L'Italia sulla luna Da sempre la storia degli italiani si intreccia con la storia di due icone costruite in Italia E oggi sono arrivati i nuovi incentivi statali E con il bonus tricolore Fiat Panda Hybrid da 9700 euro Guarda è Cupido Ah Cupido lo vuoi un Red Bull? Per cosa? Io ho già le ali Sì ma hai da più di 3000 anni che sei il dio dell'amore e sei ancora single Beh bell'aiuto che mi ha dato Red Bull ti mette le ali Ok Per la tua moto Scegli prima assicurazioni Prima Per prima vieni davvero prima di tutto Scegli la polizza moto Dove, come e quando vuoi Tu prima Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi È una musica che rimane in testa Note di menta Un viaggio che inizia Il gusto riempie i tuoi occhi È un tuffo al cuore Una risata dolce Un finale a sorpresa È un momento scolpito nel ghiaccio Un brivido lungo la schiena Branca menta Senti il brivido? Ehi! Mettiti in gioco È tempo di barbecue Mettiti in gioco con Calvet Partner ufficiale degli europei UEFA 2024 Preparati a un risveglio spaziale Da oggi c'è Laila Dormi Bene Gommose con melatonina E cinque estratti naturali Nuovo Laila Dormi Bene Dormita galattica Risveglio spaziale E per calmare l'ansia lieve Puoi provare Laila Per sentirsi più leggeri Senti l'energia del cambiamento Il momento è ora Solo a giugno Nissan triplica gli incentivi Gamma Qashqai con 9000 euro di incentivi Nissan Ed ecco bonus rotamazione I veri amici ci sono sempre Come Philadelphia Così buono e piacevolmente cremoso Con Philly hai trovato un amico Non sono ancora pronta Non preoccuparti ci pensa Sunsilk Perfetto andiamo Dopo shampoo e balsamo liscio perfetto Usa il nuovo spray termoprotettore Sunsilk Protegge dal calore del phon e della piastra Fino a 230 gradi Per capelli perfettamente lisci Incredibilmente brillanti E sorprendentemente morbidi Linea Sunsilk liscio perfetto Il calcare si accumula su ogni superficie del mio bagno Ma Via Cal con formula per tutto il bagno lo dissolve fino al 100% Lasciando solo brillantezza e un delizioso profumo Sulla porta della doccia Sulle piastrelle e i sanitari Via Cal il numero 1 contro il calcare Per tutto il bagno Raccomandato da Ideal Standard Scusate il ritardo Siete pronte? Un talento trillare Rubo quello che voglio anche a mani legate e occhi chiusi Ma comunque un gentiluomo Eccovi la corona ma voi ridatemi Fujiko Sempre pronto all'avventura Pronti a raccogliere la sfida ragazzi? Lupin È praticamente impossibile farmarlo Ogni martedì Prima serata Italia 2 Lupin non è finita qui Per una pausa che ti fa ripartire con energia Prova Special K La deliziosa barretta al cioccolato fondente con avena Frumento integrale e 85 calorie Special K Riparti con gusto San Benedetto Skincare Il rituale di bellezza Con collagene, zinco e acido ialluronico San Benedetto Skincare My Secret Bibite San Benedetto Zero Momenti di piacere Zero zuccheri aggiunti Bibite San Benedetto Zero My Secret Domani sera Scegli il programma Mediaset che fa per te Mediaset La tua scelta libera L'acqua è un dono della natura San Benedetto Eco Green compensa il 100% delle emissioni di anidride carbonica Acqua minerale San Benedetto Eco Green Da Euronics c'è i Black Friday d'estate! Conviene! Approfitta delle offerte sulla migliore tecnologia Solo fino al 19 giugno Euronics, un mondo più avanti Di famiglie strane Ce ne sono tante Ma di famiglia Griffin Ce n'è una sola Su Italia 2 Con la diciottesima E la diciannovesima stagione I Griffin Ogni lunedì In prima serata Cremoso yogurt Più biscottini al cioccolato Yogurt alla fragola Più mandorle caramellate Cremoso yogurt Più croccanti Buffer al cioccolato Oh my yomo È buono È iomo Nuova Y Da 130 euro al mese Con incentivi statali Anche sabato e domenica I veri amici ci sono sempre Come Philadelphia Così buono e piacevolmente cremoso Con Philly hai trovato un amico Spesso è difficile vedere chi si nasconde Come le insidie a volte nascoste in una dieta disordinata Che possono causare disturbi intestinali Enterogermina contiene miliardi di spori di bacillus clausi Che si attivano nell'intestino Per curare quando serve Diarrea e dolori addominali Enterogermina Dal tuo intestino Puoi prenderti cura di te Quando senti la pancia gonfia C'è Enterogermina gonfiore Per un'azione rapida e prolungata E per risvegliare la tua regolarità Enterogermina intestino pigro Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi È una musica che rimane in testa Note di menta Un viaggio che inizia Il gusto riempie i tuoi occhi È un tuffo al cuore Una risata dolce Un finale a sorpresa È un momento scolpito nel ghiaccio Un brivido lungo la schiena Branca menta Senti il brivido? Inizia ad entrare nella modalità estiva? Ti conviene scegliere il posto più comodo del divano Perché con il cinema di Boeing Si entra in un'altra dimensione Un universo Boeing Pieno di avventura E risate Una combinazione perfetta Per passare in famiglia Una straordinaria serata cinema E ancora più avventura All'avventura! E più risate Ti aspettano con i nuovi episodi di Ivan Do Entra nella dimensione del divertimento di Boeing E della Boeing App E della Boeing App Ecco la mia invenzione per un WC pulito e brillante Ma c'è un modo migliore con Bref Nuovo Bref Brilliant Gel tutto in uno Pulizia profonda, protezione antisporco, fresco profumo ed extra brillantezza Davvero brillante Prova gratis la gamma Bref Acquista 5 euro di tavolette Bref Ti rimborsiamo 5 euro Guarda cosa ho appena fatto La perla perfetta Non male, ma stai a vedere Wow, ma è un capolavoro Red Bull ti mette le ali Per quanto la mia giornata sia piena Cerco sempre di ritagliarmi del tempo per me stessa E con il virtual tryon di Notino Giocare con il mio look non è mai stato così facile e divertente Notino, today is yours Feel good Scarica subito l'app di Notino E ottieni la spedizione gratuita Sul subito ho venduto il fornetto senza commissioni E ho comprato gli occhiali L'usato è il mio nuovo E con la second hand mi sento una fin Subito è la community che sa come farti felice Scarica l'app Con mozzarella Santa Lucia Anche il mio papà è un grande chef E ogni piatto diventa straordinario Santa Lucia Ogni giorno qualcosa di speciale Le cose belle Vorresti non finissero mai Come i giga illimitati in 5G sulla rete Win 3 e iPhone 15 con batteria che dura tutto il giorno Tuo a 19,99 euro in più al mese nei Win 3 Store Questo per noi è semplificarti la vita Win 3 semplifica Connessioni, energia, assicurazioni Fede, conta gonfiare un canotto in tempi record Prontissima Via Vinci come me le sfide di ogni giorno Con Sustainium Plus E la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi Sustainium Plus Dai energia alla tua energia E dopo i 50 anni Sustainium Plus a 50 più con Actifull e Menarini La freschezza di Coccolino Non ti basta mai Goditi un'esplosione di extra freschezza Con il nuovo Coccolino Profumo per Bucato Elixir Aggiungilo al tuo ammorbidente Per infondere i tuoi vestiti Confino a 10 volte più profumo Per un extra profumo che dura a lungo Nuovo Coccolino Profumo per Bucato Elixir Molto più che fresche Vieni in poltrona e sofà Ci sono i quattro per te Uno, prendi un divano in tessuto e il secondo rivestimento solo 29 euro Due, prendi un divano in pelle e hai una poltrona con relax elettrico a solo 49 euro Tre, su oltre 90 divani la consegna è gratis E il quattro puoi pagare in 24 mesi E poi carseggio solo 869 euro Solo questa settimana Caglioletto è al 40% di sconto Solo 699 euro Gabriele e gli altri redattori vi aspettano in negozio Siete pronti a entrare nel fantastico mondo di Italia 2 Fantacinema Ogni mercoledì in prima serata su Italia 2 Problema, somministra medicina pomeridiana Ancora, somministra medicina pomeridiana Problema, ancora Ancora Non posso somministrarti altro farmaco, Grey No, no, non l'hai fatto bene Non l'hai fatto Somministra medicina Un'altra dose sarebbe fatale Provvederò a chiamare un'ambulanza che ti porti in ospedale Se soffri molto Di famiglie strane Ce ne sono tante Ma di famiglia Griffin Ce n'è una sola Su Italia 2 con la 18esima e la 19esima stagione I Griffi ogni lunedì in prima serata 12 giugno 2023 A me mi ha cambiato la vita Era assolutamente un uomo buono, buono, veramente Si ricordava il nome, cognome, dei tecnici, degli operatori Manca a tanti e mancherà per sempre 12 giugno 2024 Caro presidente Un anno dopo Subito dopo il TG5 delle 20 Mercoledì Su Canale 5 Viva l'Italia L'Italia che non ha paura L'Italia che lavora L'Italia che si dispera L'Italia che si innamora L'Italia metà dovere E metà fortuna Viva l'Italia L'Italia sulla luna Da sempre la storia degli italiani Si intreccia con la storia di due icone Costruite in Italia E oggi sono arrivati i nuovi incentivi statali E con il bonus tricolore Fiat Panda Hybrid Da 9700 euro Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore No, ha solo dormito meglio Con Ziqui in natura Gommusa la melatonina Dormi bene E diventi un campione ogni giorno E ora Ziqui in natura È disponibile anche in formato spray Senza zucchero Prova il nuovo spray Ehi Mettiti in gioco È tempo di barbecue Mettiti in gioco con Calvè Partner ufficiale Degli europei UEFA 2024 Se vuoi placare la tua insaziabile Voglia di sushi Glovo O farti portare le cuffie dall'ufficio La spesa Qualcosa dalla parafarmacia O quello che vuoi Ordina un glovo e tutto ciò che desideri Suona la tua porta Ciao, sono Patrick Scegli prima assicurazioni per la tua Per la tua auto o per la tua moto Puoi assicurare anche casa e famiglia se vuoi Online O in agenzia Per ogni necessità Contatta I nostri consulenti Ma come Per prima vieni davvero prima di tutto Anche di Patrick Fai come oltre 3 milioni di clienti Scegli prima assicurazioni Dove Come E quando vuoi Tu Prima If you love La nuova serie di Mediaset Infinity Per favore mi aspetti la prego Con Kerem Bursin Di Love is in the Air Lei deve tornare subito a Istanbul Chi sei? Dove abiti? Di cosa ti occupi? Ogni giorno Un nuovo episodio Attento Stai giocando col fuoco Non sono io la persona Che rischia di rimanere scottata Gratis e in esclusiva Su Mediaset Infinity Fede Pronta a mettere la pettorina a 4 cani In tempi record? Prontissima Via Cobra vieni Vinci come me Le sfide di ogni giorno Con Sustenium Plus E la sua formula specifica A base di vitamine E complesso di amminoacidi Sustenium Plus Dai energia alla tua energia E dopo i 50 anni Sustenium Plus A 50 più Con Actifull E Menarini Se insegnare qualcosa Ti fa sentire bene Immagina farlo Per migliaia di persone Firma per l'Otto per Mille Alla Chiesa Cattolica La tua firma Diventerà migliaia di gesti d'amore Ogni giorno Pril presenta Ciclo ecco con questo sporco E allora C'è Pril Pril Excellence È il numero uno Contro lo sporco incrostato Anche a basse temperature Cambia programma E risparmia energia Con Pril Excellence Passando al ciclo eco Con Pril Excellence Puoi risparmiare Il 20% di energia Amore È l'idraulico Vai tu Vado io Buonasera Compagnia sbagliata? Vai su Segugio.it Confronta le offerte E risparmia sulla polizza auto e moto E sulle offerte luce gas Segugio.it Trova la compagnia giusta In cosa credi? Nella routine? Nelle favole? O scegli di seguire la tua strada? Nuovo Peugeot 2008 Da 150 euro al mese Scegli di seguire la tua torta? E risparmia L'estate di Mediaset Extra si accende di passione. Le emozioni di vivere. Cento vetrine e Beautiful. Da lunedì 10 giugno, solo per te. Ah, è lei. Le faccio la ricetta. Tutto estremamente chiaro. Benvenuto in Iliat. Ti stavamo aspettando. Iliat, un mondo semplice dove sai sempre cosa aspettarti. Entrare per credere. Sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 si vota per rinnovare i 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Nelle stesse giornate e negli stessi orari si vota anche per il rinnovo di oltre 3.500 amministrazioni comunali e per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente del Piemonte. Per votare occorrono un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale. Elezioni 2024. Votare è un diritto e un dovere civico. Europee in Italia Seggi aperti domani dalle 15 alle 23. Si vota anche domenica. Le ultime manifestazioni elettorali prima del silenzio che scatta a mezzanotte. Oggi il voto di Irlanda e Repubblica Ceca. Ieri seggi gli elettori olandesi. In Italia anche le regionali in Piemonte e le amministrative in oltre 3.700 comuni di cui 20 cavologhi. Guerre in Ucraina. Biden paragona Putin a Hitler. Mosca polimizza duramente con la Francia dopo l'annuncio dell'invio a Kiev dei caccia da bombardimento. Mirage Putin. L'Occidente sta perdendo egemonia. Lunedì Blinken torna in Israele. Domani scade l'ultimatum di Gans a Netanyahu. Il ministro annuncerà l'uscita dal governo israeliano. Il Qatar a Damas accetti l'accordo via da Doha. Giallo di Cata. Per la procura la scomparsa è frutto di un piano ben organizzato. A quasi un anno dal rapimento sono quattro le piste investigative. Traffico di droga, racket delle stanze all'hotel Astor, scambio di persone e poi quella sessuale. La madre della bambina. Vivo sempre con la speranza che qualcuno parli. Roland Garros impresa solamente sfiorata per il nuovo numero uno al mondo. Sinner battuto in semifinale in 5-7 dallo spagnolo Alcaraz. Vittoria nel doppio femminile per la coppia Paolini e Rani che raggiunge la finale al pari del doppio maschile. Paolini impegnata anche nella finale singola. Di famiglie strane ce ne sono tante. Ma di famiglia Griffin ce n'è una sola. Su Italia 2 con la diciottesima e la diciannovesima stagione. I Griffin ogni lunedì in prima serata. Festa totale E non vorrei lasciarti più andare Aspettami E un'altra notte se ne va Un bacio al gritto e rendo Pepsi. Nuovo look. Stesso gusto unico. E un'altra notte se ne va E un'altra notte se ne va Saltata, mantecata, risottata La pasta è su Cotto e Mangiato magazine di giugno E poi i dolci al limone e il gelato fatto in casa con l'Ucake Cerca in edicola la rivista di Cotto e Mangiato In allegato trovi anche il Condi Spray o il Macina Pepe Duo Lo senti? E' un sorso freddo che cattura i tuoi sensi E' un tuffo al cuore Una risata dolce E' un momento scolpito nel ghiaccio Un brivido di piacere Branca Menta Senti il brivido? E' il momento perfetto per abbracciare il cambiamento Per imparare in modo innovativo e sostenibile Per raggiungere nuovi obiettivi E' il momento perfetto per scegliere Pegaso L'università digitale più scelta in Italia Pegaso, connessi al futuro Da sempre la storia degli italiani si intreccia con la storia di due icone costruite in Italia E oggi sono arrivati nuovi incentivi statali E con il bonus tricolore Fiat Panda Hybrid da 9.700 euro Ehi che fai, devi vendere casa Qui c'è Rexer che ti sta aspettando Che servizio davvero speciale Che bellezza questo immobiliare Grande Rexer può far batto Vendi casa che... Rexer, vendiamo casa tua a chi la sogna Spesso è difficile vedere chi si nasconde Come le insidie a volte nascoste in una dieta disordinata Che possono causare disturbi intestinali Enterogermina contiene miliardi di spori di bacillus glausi Che si attivano nell'intestino per curare quando serve Diarrea e dolori addominali Enterogermina dal tuo intestino Puoi prenderti cura di te Quando senti la pancia gonfia C'è Enterogermina gonfiore Per un'azione rapida e prolungata E per risvegliare la tua regolarità Enterogermina intestino pigro Su Subito ho comprato da Carla la racchetta che cercavo E col pagamento protetto l'ho presa al volo Subito è la community che sa come farti felice Scarica l'app Guarda è Cupido Ah Cupido lo vuoi un Red Bull? Per cosa? Io ho già le ali Sì ma hai da più di 3000 anni che sei il dio dell'amore E sei ancora single Beh bell'aiuto che mi ha dato Red Bull ti mette le ali Per una pausa che ti fa ripartire con energia Prova Special K La deliziosa barretta al cioccolato fondente con avena Frumento integrale e 85 calorie Special K Riparti con gusto Scusate in ritardo siete pronte? Un talento criminale Rubo quello che voglio anche a mani legate e occhi chiusi Eh ma comunque è un gentiluomo Eccovi la corona ma voi ridatemi Fusico Sempre pronto all'avventura Pronti a raccogliere la sfida ragazzi? Lupin È praticamente impossibile farmarlo Ogni martedì prima serata Italia 2 Lupin non è finita qui! Ben trovati a questo appuntamento meteo Ci attende un fine settimana caratterizzato dalla presenza dell'alta pressione Che porterà un po' di caldo estivo in tutta Italia Anche se domenica si avvicinerà una perturbazione Che causerà un graduale peggioramento del tempo al nord Per maggiori dettagli consultate il nostro sito Meteo.it Di famiglie strane Ce ne sono tante Ma di famiglia Griffin Ce n'è una sola Su Italia 2 Con la diciottesima E la diciannovesima stagione I Griffin Ogni lunedì in prima serata 12 giugno 2023 A me mi ha cambiato la vita Era assolutamente un uomo Buono, buono Veramente Si ricordava il nome Cognome Dei tecnici Degli operatori Manca a tanti E mancherà per sempre 12 giugno 2024 Caro presidente Un anno dopo Subito dopo il TG5 delle 20 Mercoledì Su Canale 5 500 euro per l'assicurazione auto 500 euro per l'assicurazione auto 500 euro per l'assicurazione auto L'assicurazione auto è così cara Che non riesci a pensare ad altro Falla facile Vai su facile.it Trovi l'assicurazione più conveniente per te A partire da 131 euro all'anno Facile.it 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 Risparmiare è facile E puoi risparmiare anche sull'assicurazione viaggi A partire da 2 euro al giorno Prova Cremoso yogurt Più biscottini al cioccolato Oh my yomo Yogurt alla fragola Più mandorle caramellate Cremoso yogurt Più croccanti buffer al cioccolato Oh my yomo È buono È yomo Per quanto la mia giornata sia piena Cerco sempre di ritagliarmi del tempo per me stessa E con il virtual tryon di Nottino Giocare con il mio look non è mai stato così facile e divertente Nottino Today is yours Feel good Scarica subito l'app di Nottino E ottieni la spedizione gratuita Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi È una musica che rimane in testa Note di menta Un viaggio che inizia Il gusto riempie i tuoi occhi È un tuffo al cuore Una risata dolce Un finale a sorpresa È un momento scolpito nel ghiaccio Un brivido lungo la schiena Branca menta Senti il brivido? Non perdere Viola come il mare Io aiuto te Se tu aiuti me Piacere A te Ferra Le due stagioni complete sono disponibili ora Solo su Mediaset Infinity Per lei è un problema se io riesco con Viola Quella che vi racconterò oggi è una storia diversa dalle altre Perché è la mia storia Guarda cosa ho appena fatto La perla perfetta Non male Ma stai a vedere? Wow! Ma è un capolavoro! Red Bull ti mette le ali Quante donne possiamo essere Quando un fastidio intimo ci trattiene Possiamo provare Meklon Lennox Contro la sensazione di prurito intimo Lenisce Protegge Previene Meklon Lennox Dalla parte di noi donne Con mozzarella Santa Lucia Anche il mio papà è un grande chef E ogni piatto diventa straordinario Santa Lucia Ogni giorno qualcosa di speciale Santa Lucia Su Subito ho venduto il fornetto senza commissioni E ho comprato gli occhiali L'usato è il mio nuovo E con la second hand mi sento una finna Subito è la community che sa come farti felice Scarica l'app Siete pronti a entrare nel fantastico mondo di Italia 2 Fantacinema Ogni mercoledì In prima serata Su Italia 2 Sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 E domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 Si vota per rinnovare i 76 membri del Parlamento Europeo Spettanti all'Italia Affinché sia valido Il voto si esprime tracciando un segno Sul contrassegno della lista prescelta I voti di preferenza Si esprimono scrivendo nelle apposite righe Il nome e cognome O solo il cognome dei candidati prescelti Compresi nella lista medesima L'elettore può esprimere fino a tre preferenze Nel caso in cui l'elettore esprima più preferenze Queste devono riguardare candidati di sesso diverso Pena all'annullamento della seconda e della terza preferenza Per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista Può essere espressa una sola preferenza Qualunque altro segno sulla scheda annulla il voto Per votare occorrono un documento di riconoscimento In corso di validità E la tessera elettorale Elezioni 2024 Votare è un diritto e un dovere civico Di famiglie strane Ce ne sono tante Ma di famiglia Griffin Ce n'è una sola Su Italia 2 Con la diciottesima E la diciannovesima stagione I Griffin Ogni lunedì in prima serata I mal di testa non sono tutti uguali Quando ti opprime puoi provare Moment 200 Quando è forte Moment Act in capsule molli Se hai mal di testa da cervicale Moment All Per il mal di testa da congestione nasale Puoi provare Moment Xin E per il mal di testa e i dolori da ciclo Moment nella confezione rosa Moment spegne i mal di testa Sono medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi E leggere attentamente il foglio illustrativo Da Angelini Farma Ah è lei Le faccio la ricetta Tutto estremamente chiaro Benvenuto in Iliat Ti stavamo aspettando Iliat Un mondo semplice dove sai sempre cosa aspettarti Entrare per credere Ciao sono Patrick Hai sentito parlare di prima assicurazioni? Con la polizza auto poi In caso di sinistro i nostri consulenti ci sono A qualsiasi ora Ti rispondono sempre dall'Italia E... Ma c'ero prima io Per prima vieni davvero prima di tutto Anche di Patrick Scegli la polizza auto su prima.it o in agenzia Tu, prima È il momento perfetto per abbracciare il cambiamento Per imparare in modo innovativo e sostenibile Per raggiungere nuovi obiettivi È il momento perfetto per scegliere Pegaso L'università digitale più scelta in Italia Pegaso Connessi al futuro Niente ti accoglie, ti ricarica e ti premia come una pausa da IP Scarica l'app e scopri i vantaggi IP Tutta l'energia di una pausa Per quanto la mia giornata sia piena Cerco sempre di ritagliarmi del tempo per me stessa E con il virtual trayon di Natino Giocare con il mio look non è mai stato così facile e divertente Natino Today is yours Feel good Scarica subito l'app di Nottino E ottieni la spedizione gratuita Nomeable days Amore Tutto ciò che vuole È scibe Tuffati nelle offerte Summer Days Dal 30 maggio al 26 giugno Ogni giorno una nuova super offerta Scarica ora l'app McDonald's e registrati C'è un'assicurazione che ti sorprende Ti fa muovere in sicurezza E protegge il tuo business È fatta di persone sempre vicine alle tue esigenze Grupa M.A. Assicurazioni La soluzione in persona Parlami d'amore Mario Tutta la mia vita Sei tu Dolce & Gabbana Light Blue L'estate di Mediaset Extra L'estate di Mediaset Extra Si accende di passione Le emozioni di vivere Cento vetrine E beautiful Da lunedì 10 giugno Solo per te Medaglia d'oro nei cento metri in ascensore No, ha solo dormito meglio Con Ziquil Natura Gommosa la melatonina Dormi bene E diventi un campione ogni giorno E ora Ziquil Natura È disponibile anche in formato spray senza zucchero Prova il nuovo spray Quando hai bisogno della giusta carica Per affrontare al massimo la giornata Prova Special K Protein Un gustoso mix di cocco, cacao, anacardi E con il 23% di proteine Special K Riparti con gusto Di famiglie strane Ce ne sono tante Ma di famiglia Griffin Ce n'è una sola Su Italia 2 Con la diciottesima E la diciannovesima stagione I Griffin Ogni lunedì in prima serata Festa totale E non vorrei lasciarti più andare Aspettami E un'altra notte se ne va Un bacio al glitter Pepsi Nuovo look Stesso gusto unico Game set Niente ti accoglie Ti ricarica e ti premia come una pausa da IP Scarica l'app e scopri i vantaggi IP Tutta l'energia di una pausa Ciao, sono Patrick Hai sentito parlare di prima assicurazioni? Con la polizza auto poi In caso di sinistro I nostri consulenti ci sono A qualsiasi ora Ti rispondono sempre dall'Italia E... Ma c'ero prima io Per prima vieni davvero prima di tutto Anche di Patrick Scegli la polizza auto Su prima.it O in agenzia Tu Prima Nel mio lavoro le innovazioni sono semplici e veloci Così anche per i dolori muscolari e articolari Vado dritto al punto con una schiuma Di Coloreum antinfiammatorio locale Si assorbe rapidamente e agisce a lungo Schiuma di Coloreum antinfiammatorio locale Dritto al punto contro il dolore Tuffati nelle offerte Summer Days Dal 30 maggio al 26 giugno Ogni giorno una nuova super offerta Scarica ora l'app McDonald's E registrati Mela verde è di nuovo in edicola In questo numero Pomodori d'Italia Le varietà del bel paese Con le ricette per preparare le conserve più gustose Un tuffo nel mare di Panarea Alla scoperta del suo lato più nascosto E ancora ha prodotti, racconti e sapori Del nostro territorio E con la rivista Le pratiche e forbici multiuso Su Subito ho comprato da Carla La racchetta che cercavo E col pagamento protetto L'ho presa al volo Subito è la community Che sa come farti felice Scarica l'app